Musica Vince l'Oscar per il miglior bacio 2-23 Angelica Naselli e Riccardo Donner Come ci si sente ad essere premiati per qualcosa di così intimo, bagnato, romantico, che altro? Che consigli date? Non baciate gente a caso Esatto Quindi il bacio va regalato solo a? Una persona che conosce e che ci tieni Miglior soggetto maschile Nominati! Edoardo Obertelli Fabio Trincipe Probabile, probabile No, ma non hai vinto, cioè, non lo sappiamo No, sei solo nominato per il momento Eh, niente Vince Vince L'Oscar come miglior soggetto maschile 2023 Fabio Fani Fabio Fani Soltanto un di oro è il vincitore della categoria migliore concorrente a Trash del Palacruzzo Vincitore di Corri Vincitore di Corri Vincitore di Corri Vincitore di Corri Ma dove sei andato? Hai preso l'Oscar? si è scappato, sono bastati 30 secondi Visto che sei in macchina con i tuoi genitori chiedi un attimo che che chiedi loro un attimo se sono contenti Più che altro io non gli direi cosa hai vinto ma gli direi perché l'hai vinto Dai Che cicista Facci qualcosa di contrario come vi va bene Allora posso La vincitrice del miglior soggetto femminile 2023 del banana angelica aschei Ciao 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 Praticamente il fotografo se ti Ti trova un soggetto bello per le foto continua a farti le foto tutte le sere ma c'è anche della bellezza Boh non lo so questo Lascia che te lo dica io c'è della bellezza Vero lori Si no io ripeto l'ho vista nascere quindi devo stare tranquillo Io l'ho vista nascere Me lo ricordo perché venivano a giocare alla wii Solo che non mi facevano mai giocare Ah vedi che c'era della cattiveria Cioè qualcosa doveva uscire fuori E' colpa di mio fratello Anche tu mi conosci da quando sono piccola E' vero anche io no è vero in effetti si è vero perché no perché i suoi genitori sono amici Che bel momento di fare Abbiamo trovato il fidanzato di angelica Scusa Ah sei fidanzata No no Non è fidanzata ok Va bene a questo punto guarda tu che sei oscar vincitore miglior membro dello staff del banana Facciamo un bel applauso se lo merita Volevo proprio lasciarti il microfono e che fossi tu a questo punto a continuare la conversazione con lei perché Eh sì perché è una specie di primo appuntamento Andiamo Allora facciamo una cosa ci accompagniamo anche magari direttamente là in un posto più comodo in un tavolino Che secondo me da regia è possibile avere anche magari una bottiglietta d'acqua del salame del vino non lo so quello che volete Sono a spiemi a niente video E purtroppo io sono anche veneto quindi la cosa non si può fare Ma io non ho detto che voglio stare con te Diciamo che potrei avere anche qualche soldi in banca Io direi che questa cosa potrebbe favorire la nostra uscita in un futuro e magari amore anche Io non guardo quelle cose E questa era la risposta che bisognava avere Grazie per aver guardato questo video Se ti è piaciuto ricorda di mettere un mi piace Per non perdere tutti i nuovi video di Jab Media TV iscriviti al canale ed attiva la campanella Ciao 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 Grazie a tutti.